salve se avete trovato la prima parte di questo video noiosa sappiate che questa seconda parte e la terza che seguirà lo sono ancora di più quindi vi conviene andare su un video comico vi consiglio baiocchi il migliore fatto dal nito del cuculo mi ringrazierete dopo averlo visto ai raggiossi rimasti descriverò il menu pop up che compare facendo click con il destro su una clip in una traccia le voci presenti nel menu pop up sono primo aggiungi effetto apri una finestra dove sono elencati tutti gli effetti applicabili alla traccia muovi su sposto la traccia un gradino più in alto nella pila muovi giù indovinate da voi cosa fa io non ve lo sto a dire cancella traccia cancella la traccia e tutte le clip in essa contenute ma queste non andranno perse rimangono dentro media nella finestra risorse aggiungi traccia inserisce una nuova traccia dello stesso tipo di quella selezionata e la pone al di sopra di essa ridimensiona traccia ridimensiona la traccia al formato e risoluzione del video di output da renderizzare i dati del progetto si trovano in impostazioni formato quelli della clip in finestra risorse clic destro sulla clip e scegliere info alla destra e sopra la timeline c'è un'icona che richiama il terminale linux e una seconda icona con due ff maiuscole sono aggiunte della sola versione 5.1 nel bottone shell ci sono l'indirizzamento alle pagine del manuale all'help in linea al manuale delle shortcut e alle istruzioni per aggiungere altre voci alla lista stessa io vi ho aggiunto i comandi per avviare inkscape per fare queste aggiunte bisogna andare nel menu impostazioni scegliere preferenze andare nella tab interfaccia e cliccare su shell command si apre una finestra dove scegliere aggiungi poi in label box dove scritto nuova scrivere il nome del programma e vogliamo inserire per esempio crita e lo stesso scriviamo in commands dare un check ok e poi cliccare su ok su apply per confermare il cambiamento a questo punto nel pulsante shell apparirà la nuova voce crita che se cliccata farà partire automaticamente il programma il secondo pulsante invece si riferisce a quanto accennato nel primo video sinerella hv e sinerella cv hanno un motore di importazione dei codec piuttosto rigido e limitato nella 5.1 invece è stato implementato ffmpeg in maniera completa nel senso che richiama e usa il vero programma esterno tale comportamento è impostato di default se invece vogliamo che prima sia tentata la classica decodifica con il motore interno e solo in caso di fallimento usare ffmpeg possiamo cliccare su questo pulsante e le lettere passeranno dal rosso al nero ad indicare il cambiamento di priorità direi un primo sguardo alla finestra programma l'abbiamo dato ora esaminiamo più approfonditamente alcuni importanti strumenti il primo strumento è il punto di inserzione detto anche punto di entrata o cursore lampeggiante o insertion point in analogia con il cursore di per esempio libri office writer il punto di inserzione definisce il punto esatto della timeline dove verrà applicata un'azione per esempio in un'operazione di copia incolla sarà il punto dove viene incollata la clipboard nell'operazione di rendering di una clip indicherà il punto da dove inizia il rendering se vogliamo avviare un playback con il tasto play sarà il punto dal quale parte il filmato riprodotto insomma si può dire che l'inserzione point è il centro dell'azione da qui la sua importanza a differenza di altri video editor infatti se ne erra non agisce sulle clip ma sulle tracce intere ricordatevi di questo ve l'ho già detto una volta è un concetto importante in sinelera ci sono due modi di fare editing sulle tracce entrambi coinvolgono il punto di inserzione e la timeline sono il metodo drag and drop e il metodo cut and paste si può passare in ogni momento dall'uno all'altro con i pulsanti chiamati arrow o i beam arrow abilita il drag and drop per riposizionare il punto di inserzione sulla timeline si può cliccare solo ed esclusivamente sulla time bar a cliccare sulla timeline non succede niente mentre facendoci un doppio clic si seleziona tutta la clip su cui si trovava il cursore cliccando su una clip trascinando in un'altra posizione sulla stessa traccia o addirittura su un'altra traccia sia lo spostamento della clip nella nuova posizione se su questa traccia ci sono altre clip l'arrivo della nuova le farà riposizionare conseguentemente condizione necessaria è che la traccia della clip sia armata come pure la traccia di destinazione quindi il drag and drop può servire solo a riposizionare e ordinare le clip oppure gli effetti oppure le tracce audio creando delle vere e proprie playlist in questo caso quello che invece non può fare è tagliare solo una parte della clip e incollarla in qualche altra posizione questo lo può fare solo il metodo cut and paste in drag and drop invece si lavora solo su clip intere similmente agli altri programmi di editing in realtà c'è un modo di superare questa limitazione ed è usare i punti in e out ma questi li vedremo dopo vorrei far notare inserire la cv della community version non esistono gli agganci magnetici fra le varie clip è una cosa che mi mancava però se ne può fare a meno perché basta spostare una clip addosso all'altra per averle incollate insieme cioè senza alcun frame vuoto fra loro infatti le clip non si possono compenetrare solo toccare ma se ci avviciniamo lentamente ci possiamo fermare anche a pochissimi fotogrammi di distanza al limite anche uno solo senza avvertire l'incollatura magnetica comunque mentre preparavo questi tutorial in una versione aggiornata di sinelera gg sono stati introdotti gli agganci magnetici cioè il famoso snapping ma lo vedremo nel video 10 se selezioniamo il tasto high beam attiviamo la modalità cut and paste in questa modalità il semplice clic su un qualsiasi punto della timeline riposiziona il punto di inserzione il doppio clic invece si comporta come per il drag and drop ovvero seleziona tutta la clip il fatto di poter inserire il cursore su di una clip permette di trascinarlo fino ad un'altra posizione ovviamente tenendo premuto il tasto del mouse e si crea così una zona di selezione la regione così selezionata diventa attiva per i vari comandi di editing che vi vogliamo applicare non solo nel punto di inserzione quindi ma in tutta la regione selezionata una volta selezionata una regione la possiamo estendere o ridurre fino alla nuova posizione finale semplicemente tenendo premuto shift e cliccando nel punto dove vogliamo fare arrivare la selezione passo adesso a descrivere un altro importante strumento i punti in e out questi possiamo inserirli nella time bar mediante relativi tasti sulla barra dei pulsanti si possono impostare questi punti in entrambi i modi di editing appena visti gli in out point servono a definire una regione attiva cioè soggetta ai nostri editing questo lungo tutta la time bar e di conseguenza lungo la timeline i punti in out hanno una priorità minore della selezione che abbiamo visto prima quindi se passiamo sopra una regione circoscritta da questi punti con una selezione essi verranno ignorati e funzionerà solo la regione selezionata in pratica taglia incolla vince su in out point per evitare confusione è bene scegliere solo uno dei due modi di attivare una regione o solo in out point o solo con la selezione si era detto precedentemente che il posizionamento di un insert point diviene il punto di partenza del playback quando si preme il tasto play si potrebbe pensare che con gli in point inseriti avvenga lo stesso invece non succede niente se vogliamo far partire il playback da un in point bisogna cliccare su play mantenendo premuto control se inseriamo un in point ma il discorso vale anche per gli out point ovviamente se inseriamo un in point quando sulla timeline ce n'è già un altro allora quest'ultimo sarà riposizionato dove vogliamo inserire quello nuovo il risultato è che sulla time bar ci può essere solo un punto in e un solo punto out se si inserisce un in point dentro una regione selezionata l'in point non verrà inserito nel punto scelto ma si creeranno due in e out point ai bordi della regione selezionata è un modo molto pratico e veloce per circoscrive una regione con gli in e out point se si clicca con il mouse su un in point il punto di inserimento verrà portato sopra tale in point se ci facciamo di nuovo clic sopra l'in point verrà cancellato lo stesso risultato si ottiene cliccando sul tasto dell'in point nella relativa barra se è presente un in point e noi facciamo shift click su una qualsiasi posizione della timeline allora si creerà una regione selezionata che parte dall'in point e si conclude dove abbiamo cliccato i punti in e out sono molto utili e si usano continuamente in senelerra però il loro preciso posizionamento non è facile bisogna scegliere il frame giusto scorrendo i fotogrammi lentamente magari anche uno alla volta se poi creiamo altri in point il precedente verrà cancellato e la sua posizione persa vedremo fra poco e per essere più precise veloci possiamo ricorrere alle labels cioè alle etichette sono uno strumento molto utile ma prima volevo aprire una parentesi teorica sull'editing in senelerra un concetto generale nell'uso del programma è quello di pre impostare cioè di pianificare in anticipo la giusta combinazione di tracce armate e di posizionamento del punto di inserzione oppure il che è lo stesso di una regione attiva questo per poter andare ad agire con estrema precisione nel punto anzi nel momento da noi scelto è importante quindi avere il controllo e la consapevolezza di quale traccia deve essere armata e di come agirci tutte le altre tracce devono essere disarmate a meno che non partecipino all'editing quando andiamo a selezionare una regione di una clip per esempio stiamo selezionando la stessa regione per tutte le altre tracce armate noi vogliamo tagliare solo la prima traccia per esempio e invece vengono tagliate anche le altre tracce armate e così via sembra un concetto ovvio ma lavorare sapendo cosa stiamo facendo è importante in senelerra ancor più che in altri video editor questa una delle qualità del programma pur essendo anche una difficoltà ti costringe ad imparare i dettagli di quello stai facendo e vuoi ottenere altri programmi usano automatismi e tolgono il controllo al montatore ma visto il tempo guadagnato e la qualità dei risultati che è comunque ottima i professionisti scelgono su questa strada più facile l'approfondimento del programma lo possono anche rimanere ad altre occasioni a me invece interessa più l'aspetto didattico inoltre gli altri programmi agiscono su una clip alla volta e non sulla traccia intera finita la parentesi passiamo a parlare delle etichette se vogliamo stabilire dei punti ben precisi sulla timeline bisogna ingrandire molto e collocare un insert point o anche un in point se poi continuiamo il lavoro perdiamo tale posizione e se ci serve di nuovo dobbiamo ripetere tutta la procedura di collocazione dell'insertion point le etichette funzionano proprio come un promemoria di determinate posizioni dopo aver collocato una labe con precisione possiamo passare ad altro ed anche rimpicciolire la traccia quanto si vuole per tornare a quello specifico punto basta cliccare sull'etichetta e siamo di nuovo lì esattamente lì una label si inserisce ogni relativo tasto o più semplicemente con la l della tastiera si può navigare da un etichetta un'altra e che vuol dire spostare il cursore da un etichetta all'altra con i relativi pulsanti sulla barra che portano alla prima etichetta sulla destra o alla prima etichetta sulla sinistra si può usare anche il control più freccia destra oppure il control più freccia sinistra notare che creare label comporta il loro inserimento nella finestra risorse dentro la cartella label da qui si può assegnare loro un nome ottenere delle info tramite il clic destro un'altra scorciatoia utile è fare doppio clic sulla time bar tra due etichette la zona compresa verrà selezionata questa è proprio una bella scorciatoia se vogliamo cancellare una serie di label dobbiamo selezionare tutta la regione che le comprende e può andare al menu modifica e scegliere clear label cancella etichette siccome abbiamo visto che selezionare una regione può influire sulle etichette presenti per esempio possono venire spostate da un taglia incolla possiamo scegliere di bloccarle con il relativo pulsante il block labels riguarda solo la modalità cut and paste poiché in drag and drop le etichette sono sempre bloccate terminiamo questa seconda parte sull'interfaccia avvisandovi che nella terza parte esamineremo quasi tutte le voci dei menu quindi la noia aumenterà siete avvisati